Siamo al campo sportivo Carlo Androne di Recco che è la casa della Dolmen Italia Pro Recco Rugby Dolmen Italia Pro Recco Rugby che si appresta a disputare una nuova stagione sicuramente da protagonista nel girone 1 della Serie A di Rugby che è poi la seconda categoria nazionale più importante dopo il Super 10 L'anno scorso l'impatto fu ottimo, per la prima volta nella storia della società bianco celeste il club di Recco disputò questo campionato, fece ottime cose, conquistò il settimo posto nel corso dell'estate che ormai si sta concludendo però sia la società che la squadra sono state interessate da cambiamenti importanti e quindi vediamo come la Dolmen Italia Pro Recco Rugby si appresta ad affrontare questa nuova stagione, ce lo hanno raccontato i protagonisti, i protagonisti attesi alla via di questa stagione dal nuovo tecnico al vicepresidente, quindi si parlerà della squadra, si parlerà della dirigenza e di tanto altro in questo speciale che abbiamo preparato per voi gentili telespettatori di Levante Sport TV Claudio Cepolino è il nuovo tecnico della Dolmen Italia Pro Recco Rugby anche se tu qua possiamo dirlo sei di casa perché hai giocato tanti anni però adesso sei arrivato anche a fare il tecnico della prima squadra quindi già questo per te è un traguardo raggiunto se vogliamo Sì, veramente mi è stato dato la possibilità di questo anno di allenare la prima squadra per cui prima di tutto sono orgoglioso di questo compito che mi è stato dato e sì, qua dal 2003 ho trovato una famiglia più o meno come le società che ci sono in Argentina, dal mio paese dove ho giocato tanti anni e va bene, adesso ho tanti capelli bianchi per cui ho smesso di giocare la mia passione è il rugby per cui allenando tanti anni mi è stata data la possibilità e la prendo prima di tutto come una sfida personale e poi vabbè, sono contento e sono carico per questa stagione per portare avanti questa squadra, questa società il più possibile Raccoglie un'eredità pesante, quello che ha fatto Manuel Ferrari negli ultimi anni in queste stagioni è sotto gli occhi di tutti in particolar modo l'anno scorso, la prima volta nel campionato di Serie A1 la ProEco è arrivata al settimo posto, un risultato non da poco ripartite da quello, migliorare non sarà facile ma ci proverete senza altro sì certo, ovviamente per un allenatore che arriva per la prima volta vuole fare sempre il meglio, vuole migliorare sempre e si può vincere tutte le partite e le vince ovviamente che Reco c'è da tanti anni che è in continua crescita e va bene, sarà compito mio di continuare con questa crescita cercare di migliorare quello che è stato fatto e continuare con la stessa linea, la stessa identità che ha la ProEco Rugby è un campionato duro, la ProEco lo ha già constatato l'anno scorso questo girone 1 della Serie A però la squadra anche quest'anno l'avete attrezzata di buon livello sono arrivati anche giocatori importanti, siete pronti a dire la vostra? sì, se ne sono andati alcuni giocatori, sono arrivati altri per fortuna quest'estate tanti giocatori li abbiamo provati, sono venuti a fare una prova sì, veramente nei ruoli più importanti sono arrivati dei giocatori di qualità poi sono contento che sia arrivato anche Gregorio che è un giocatore che è cresciuto qua a Reco ha fatto un anno di esperienza a Via Adana e adesso con noi lo stesso Giacomo Del Rì che ancora è in forza però spero che rimanga con noi inizierete ai primi d'ottobre il campionato a San Donà che tra l'altro era stato anche l'ultimo avversario del campionato scorso questi sono scherzi del calendario è subito una trasferta tosta per entrare subito in clima campionato sì, sì, noi faremo una... già i ragazzi d'estate hanno fatto una bella preparazione adesso faremo... abbiamo tempo fino al 2 ottobre per preparare soprattutto il campionato però ovviamente pensando la prima partita che ovviamente andremo a vincerla quindi una promessa subito, chiaramente giustamente siete conventi sin dalla prima partita è giusto così essere fiduciosi sì, noi ci alleniamo per fare il meglio ovviamente che poi le partite si devono giocare però l'impegno ci sarà sicuramente ai ragazzi perché tanti di loro li conosco e ci sarà, l'impegno nostro ci sarà e ci allenaremo duro per fare un buon campionato state organizzando anche amichevoli, i cosiddetti test match come si dice nel rugby durante il mese di settembre sì, abbiamo due amichevoli già fissati, l'undici è il 18 settembre e poi faremo una partita contro l'Under 23 l'ultimo weekend prima di iniziare il campionato a proposito dell'Under 23, è la grande novità di quest'anno questo proprio a livello reggbistico nasce questa vera e propria categoria voi vi fate trovare pronti perché avete tanti ragazzi giovani che possono giocare già in prima squadra e anche nell'Under 23 questo è una bellissima cosa perché avendo tanti giovani che sono cresciuti qua a Reco e che hanno la possibilità di giocare su un campionato come l'Under 23 e poter ambire, come tutti i giocatori ambigono di arrivare in prima squadra e di poter giocare per meriti e poter arrivare in prima squadra perché si possono tranquillamente intercambiare del giocatore tra la 23 e la prima squadra Siamo con Raffaello Allegretti, vicepresidente della ProReco una ProReco che cresce come squadra, come prima squadra e non solo ma bisogna innanzitutto crescere come società quando si arriva poi a certi livelli voi lo state facendo, siete rilici da una bellissima stagione e sappiamo che anche quest'anno volete fare se possibile ancora meglio Eh sì, abbiamo un sacco di novità quest'anno anche a livello proprio dirigenziale il nuovo presidente Stefano Di Liberto, il nuovo consiglio direttivo, il nuovo assetto societario e la speranza di confermare e migliorare, come diciamo sempre, un posto in più salire sempre un grandino per volta, i nostri obiettivi sono quelli poi mantenere la presenza sul territorio, far crescere i nostri ragazzi questi sono i nostri must, su questo noi lavoriamo è chiaro che per piano piano si possono poi raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi per il momento noi siamo modesti, ci accontentiamo un gradino per volta sempre Però nel rugby che conta? Ci sì che c'è il Super 10 però voi insomma siete nella categoria immediatamente inferiore la ProReco ormai c'è stabilmente ed è una realtà conosciuta ormai a livello nazionale Sì, è vero e tra l'altro è una realtà che si inserisce in un contesto, quello ligure che per il rugby è obiettivamente difficile quindi ancora di più secondo me va posta in evidenza proprio la capacità di questa società di riuscire a rimanere a questi livelli perché è oneroso da un punto di vista economico, oneroso da un punto di vista di risorse personali che sono tutte basate sulla passione, sul volontariato di ognuno di noi quindi si lavora in maniera veramente costante per ottenere questi risultati È giusto ricordare poi che la ProReco non è soltanto la prima squadra questa sera quindi abbiamo poi una conferma tangibile perché c'è un gruppo foltissimo di ragazzi che si sta allenando e non sono soltanto quelli della prima squadra la prima squadra è la punta dell'iceberg, questo accade un po' in tutti gli sport però avete alle spalle un retroterra davvero importante tante tante formazioni giovanili che tra l'altro crescono bene e che portano anche ragazzi in prima squadra Sì, certo è questo quello che dicevo all'inizio il nostro master è lavorare sui giovani siamo in un territorio che a livello proprio di numeri non fornisce i numeri che può fornire Genova però lavoriamo sulle scuole, lavoriamo con la qualità, con la passione e tutto questo dà i suoi frutti i ragazzi che crescono, i ragazzi con le convocazioni nelle varie nazionali i under, i barrage che affronteranno le nostre rappresentative per poter accedere ai campionati nazionali sono tutti risultati che obiettivamente fanno piacere e danno un motivo in più per continuare su questa strada Parlavamo prima anche con il nuovo allenatore della prima squadra Claudio Cepolino la nascita, questo l'ha voluto la federazione della categoria under 23 che insomma ha una società come la vostra che crede così tanto nei giovani dà tutto sommato anche una mano sì, l'under 23 poi la si può vedere come un'estensione della prima squadra per noi infatti Claudio ha proprio detto questo anche prima ai ragazzi non c'è una rosa, sì c'è, è chiaro che ci sono delle priorità però il lavoro dell'under 23 e il lavoro della prima squadra sono assolutamente gli stessi gli obiettivi comunque sono per i ragazzi dell'under 23 che partono da quella base sono quelli di raggiungere la prima squadra ed è molto stimolante consente a tutti di giocare in un campionato di discreto livello anche questo è un'altra cosa importantissima nel rugby si cresce se si gioca se si sta fermi non è possibile migliorare è molto difficile quindi sì sì, per noi questo è stato è un anno importantissimo quello dell'under 23, indubbiamente Manuel Ferrari, quest'anno ti ritroviamo qui a Recco però in una veste diversa sei consulente tecnico di questa società la quale hai dato tantissimo e alla quale continuerai sicuramente a dare tanto però in una veste diversa quest'anno sì, farò consulente sono disponibile a dare una mano se c'è bisogno però non ci sarà bisogno perché la gente che ha preso le squadre è gente seria che è molto capace e con molta voglia così che credo che sarà un anno molto buono per Recco visto così diciamo allora dal di fuori facendo un passo indietro che impressione ti fa la squadra anche il nuovo tecnico e l'ambiente che si respira qui al Carlo Androni beh, la squadra non è cambiata molto dell'anno scorso e penso che gli inserimenti che si sono fatti quest'anno credo che saranno molto positivi e l'ambiente è sempre sereno e questo è il meglio che ha Recco conosci molto bene anche il nuovo allenatore Claudio Cepolino perché è stato un tuo giocatore lo hai portato tu in Italia dall'Argentina quando eravate a Piacenza e poi da Piacenza l'hai portato qua possiamo dire che garantisci tu per lui? Sì, prima di tutto è una persona molto corretta e dopo come allenatore è molto capace è la prima sua esperienza con la prima squadra però so che farà molto bene perché è molto ordinato e molto preparato e il campionato che aspetta la Pro Recco tu l'anno scorso già lo hai visto in prima persona è un campionato difficile è impegnativo perché il livello è alto però questa squadra dicevi è pronta per ancora una volta una stagione da protagonista Sì, i campionati sono è difficile parlare perché dipende molto di come si rinforzano le altre squadre non dipende soltanto di quello che può fare uno se no quello che si sono preparati le altre anche per fare io spero che faccia un campionato quando si dà tutto il campionato è sempre ottimo e di questo non ho dei dubbi che i ragazzi Claudio con i ragazzi faranno tutto e daranno tutto grazie a tutti